Ciao a tutti, cari spettatori, e benvenuti al nostro canale YouTube. Oggi vogliamo parlarvi di un evento davvero sorprendente che coinvolge una delle personalità più amate dal mondo del web. Tommaso Zorzi. È stato lasciato senza parole da un gesto incredibile di un suo fan. E vi racconteremo tutto nei dettagli. Quindi, restate con noi per scoprire cosa è successo. Tommaso Zorzi. Noto conduttore e influencer molto attivo su Instagram. Ha condiviso una storia che ci ha lasciati senza parole. Un suo fan ha compiuto un gesto straordinario per dimostrare il proprio affetto nei confronti di Tommaso. Cosa ha fatto questo fan? Si è fatto tatuare l'avambraccio con la sagoma di Tommaso Zorzi. L'influencer è stato rappresentato in bianco e nero. Vestito in modo sportivo ma con un tocco di classe. Una borsa Chanel. Questo gesto ha sorpreso non solo Tommaso Zorzi. Ma anche il mondo dei social media. Tommaso stesso ha condiviso la notizia su Instagram. Dichiarando di aver pensato di aver visto di tutto nella vita. Ma che questa dimostrazione di affetto lo ha davvero spiazzato. Ecco, ragazzi, questa è una storia davvero incredibile che dimostra quanto affetto possa ricevere un personaggio pubblico come Tommaso Zorzi. Se volete rimanere aggiornati sulle storie più sorprendenti del mondo delle celebrità e dei social media, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale. Mettete un mi piace se il video vi è piaciuto e condividetelo con i vostri amici. Vi ringraziamo per averci seguito. E ci vediamo nel prossimo video.